Era importante per noi riscattarci subito dopo la sconfitta di domenica. È stata una partita difficile, lo sapevamo, perché incontravamo una squadra ben messa in campo che sapevamo che ci poteva dare delle difficoltà, quindi i ragazzi sono stati bravi e siamo contenti. Gennaro è un giocatore fondamentale per noi, un giocatore che sapevamo che poteva darci una grande mano e come sta facendo, quindi sia sotto l'aspetto tattico e sotto l'aspetto prettamente del campo ma soprattutto sotto l'aspetto caratteriale e quanto riesce a tirar fuori anche dai propri compagni. Tedoni e Amoruso sono due under che abbiamo tenuto in considerazione dall'inizio perché sono due ragazzi che si allenano bene e fanno sempre bene quando vengono chiamati in causa come è capitato per Amoruso domenica scorsa a Manfredonia che ha giocato tutto il secondo tempo o Tedone in altre circostanze, quindi loro oggi hanno fatto una buonissima partita sapevamo che potevamo fare bene, che ci potevano dare una mano e così è stato ed è importante perché poi i ragazzi devono farsi trovare pronti ed è stato così per entrambi quindi sono contento, loro devono continuare a lavorare perché ci sarà spazio per loro come per qualcun altro quindi è giusto ed è importante farsi trovare pronti. Il Barletta credo non c'è bisogno né di spiegazioni né di presentazioni sappiamo che è una squadra attrezzata in ogni reparto, l'abbiamo già affrontata in Coppa ovviamente la prepareremo da martedì sapendo tutte quelle che sono le difficoltà della partita ma sapendo anche che con il giusto atteggiamento e con le nostre caratteristiche possiamo andarci a giocare la nostra partita.